I ragazzi ci sono, e ne accogliamo con un forte applauso, loro sono Amina e Gabriele! Bivie me ves Questo tokio in mia vita E' la magia adds a me sopra Quando me respiras feed mi corpo facil desas Teンドedora, non ko « virtually» Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie e buona serata.